www.feyyaz.tv Non ci sono state reazioni perché la nostra doveva essere la tournée del secolo. Noi eravamo le stars, tutte minorenne, io no. Autunno 1968, una tournée dalla quale non si può tornare indietro, concordata ormai per tre mesi. Come è stato raccontare la storia di queste cinque giovanissime ragazze? Beh è stato molto appassionante perché è una storia paradossale e bizzarra e quindi è stato davvero interessante. Soprattutto è stato interessante stabilire un rapporto con le protagoniste anche dopo 50 anni e cercare di sollecitare la loro memoria in tutti i sensi e poi soprattutto cercare di fare in modo che si affidassero completamente a me. Sì, spero di esserci riuscita. Come è essere riuscita a creare il giusto mix, la giusta miscela tra immagini di repertorio e ciò che invece le allora ragazze ci raccontano? Beh, in realtà loro raccontano molto bene, sono scese nel dettaglio e quindi certo è stato molto complicato trovare dei film adatti, trovare dei materiali adatti ma una volta trovati quelli poi è stato abbastanza semplice. Quello che emerge a distanza di 50 anni è uno stato d'animo che ancora agita e disorienta Viviana, Rossella, Daniela e Franca. È così? Lo hai percepito anche tu? Beh, è sicuramente l'avventura più importante della loro vita ma lo sarebbe per qualsiasi donna, credo, no? Che, per esempio, Rossella aveva solo 16 anni e ritrovava, partire per una tournée, quindi pensando di andare a suonare, a cantare e magari di crescere dal punto di vista del successo, per ritrovarsi in mezzo a una delle guerre più sanguinose, più lunghe e più trimende del Novecento e questo naturalmente è stato per loro un'esperienza che le ha sicuramente segnate. Come hai scelto questa storia o è stata forse questa storia a scegliere te? Beh, è stata questa storia a scegliere me sicuramente nel senso che quando ho scoperto questa storia ho deciso, anche se non ci ho messo molto poco, anzi ci ho messo un bel po' di tempo ma ho deciso subito di raccontarla. Loro in un primo tempo si fidavano molto poco perché, giustamente, partono per una tournée in Estremo Oriente e finiscono in una guerra tremenda, tornano e vengono giudicate molto male, quindi si fidavano poco, però, anche se in fondo sono passati 50 anni, però, poi alla fine si sono affidate.